Buon pomeriggio e bentornati a Basket Time, si profila un fine settimana interessante non soltanto per il campionato di Serie C Silver con il Basket Club Cerignola ma anche per il basket nazionale con cestistica San Severo e Lions Basket, mi sceglie. Ma cominciamo con ordine, partiamo dalla Serie C Silver con la formazione giallo-blu del Basket Club Cerignola che domenica scorsa ha vinto la quarta di fila della stagione 4 su 4 contro il Monopoli con il punteggio di 92 a 65. E dimenticando anche quanto è di brutto, ho fatto vedere nel secondo quarto, i ragazzi allenati da Beppe e Vozza cercano continuità e anche nella partita interna del Palafamila di domenica prossima contro la PM Barters e Bari e certamente squadra da non sottovalutare. Andiamo a sentire che cosa ha detto uno dei giocatori di punta del BK Club Cerignola ai nostri micropoli, Alessandro Iaia.